Uomini e donne, Giulia Assente nell'ultima registrazione, ecco perché Attraverso il profilo Instagram di Raffaella Mennoia è possibile prendere visione di tutto quello che accade dietro le quinte di Uomini e Donne. La redattrice del programma, infatti, utilizza tale mezzo di divulgazione per fare piccoli spoiler di quanto accaduto durante le registrazioni. Andando sul suo profilo social è possibile prendere visione di una foto che sta facendo molto discutere. La donna si trova in compagnia dei due tronisti Andrea Zeletta e Angela Nasti. All'appello, dunque, risulta assente Giulia Cavaglia, come mai la ragazza non è presente all'ultima registrazione di Uomini e Donne? La Mennoia ha lasciato intuire qualcosa nella didascalia dell'immagine. Giulia Cavaglia assente, la Mennoia svela. L'ultima foto pubblicata da Raffaella Mennoia sul suo profilo Instagram riprende la redattrice e intenta a dare un bacio al tronista Andrea Zeletta insieme ad Angela. La collaboratrice di Maria De Filippi ha commentato tale immagine ironizzando sulla figura del tronista. Nel caso specifico, la Mennoia ha detto che ad Andrea basta semplicemente guardare le donne per farle cadere ai suoi piedi. Raffaella, però, ha menzionato anche il fatto che Giulia fosse assente poco prima della registrazione di Uomini e Donne. Per quale motivo? La Mennoia si è limitata a scrivere che la ragazza fosse in ritardo. Al momento non ci è dato sapere per quale ragione la ragazza non fosse riuscita ad essere puntuale al consueto appuntamento con la registrazione. . Ad ogni modo, i numerosi follower di Raffaella Mennoia hanno incominciato a commentare al di sotto della sua foto facendo trasparire tutta la loro stima e approvazione. . Molti utenti, infatti, si sono complimentati con lei per l'ottimo lavoro che, come sempre, conduce. Altri, invece, hanno posto l'accento sulla disarmante bellezza di Andrea. . Ad ogni modo, però, non sono mancati i commenti di tutte quelle persone che hanno chiesto spiegazioni del fatto che Giulia fosse assente a un passo dall'inizio della registrazione. . Il post di Raffaella senza Giulia. . L'immagine, divenuta virale in pochissimi minuti, ha ottenuto più di 36 mila like e numerosissimi commenti. . Ecco riportato lo scatto in questione. . Sempre sul profilo di Raffaella, andando questa volta sulle IG Stories, è presente un altro video che ritrae i due tronisti. . . Nel caso specifico, la redattrice ha inquadrato sempre Andrea e Angela in più un'altra persona. . . . . . . . .